Imparare a creare elaborati digitali oppure ad accrescere le competenze informatiche acquisendo la certificazione Pekit, avere dimestichezza con il disegno tecnico da applicare in meccanica e in architettura, a mesagne di scena, protagonisti del futuro progetto ministeriale finalizzato al contrasto della povertà educativa finanziato con fondi PNRR, missione 5, componente 3, fondi dell'Unione Europea, programma Next Generation, nel laboratorio urbano Lab Creation, sede dell'Associazione Collettivo Musicarte o DV, conclusione dei corsi di informatica, AutoCAD e illustrazione digitale, protagonisti i ragazzi fra gli 11 e 17 anni. L'importanza di questi corsi è data dal fatto che offrono un percorso di certificazione e quindi permettono già a ragazzi molto giovani di avere una certificazione spendibile sia nel mondo dell'istruzione che nel mondo del lavoro, essendo anche molto giovani, insomma hanno tanti tanti anni a venire, quindi loro avranno una certificazione e una maggiore consapevolezza nell'uso di questi mezzi informatici. Allora, il corso di illustrazione è un corso tutt'altro che inutile perché insegna ai ragazzi ad utilizzare il computer in maniera creativa e questo vuol dire che apprendono durante il corso diversi software per poter realizzare dei lavori veri e propri. Durante il corso infatti assegno dei lavori come se fossi davvero un committente. AutoCAD è un software che serve prettamente per il disegno tecnico quindi solitamente ad appannaggio di geometri, architetti e ingegneri ma in un mondo che strizza sempre di più l'occhio alla realtà virtuale e agli ambienti virtuali in genere può servire anche a chi magari deciderà di cambiare strada lungo il percorso visto che è frequentato da gente molto giovane. Grazie a tutti.